Un'opera prima che cattura l'attenzione con il suo titolo enigmatico, Di Ventivaria, firmata dalla poetessa Anna Rita Nutricati. Avvolto in un'aura di mistero e suggestione, questo titolo sembra sussurrare segreti, invitando il lettore a varcare la soglia di un mondo poetico ricco di sfumature e riflessioni. Di Ventivaria si configura come un'opera di grande pregio, capace di incantare il lettore con la sua profondità e la sua ricercatezza stilistica. La poetessa dimostra di possedere una voce poetica matura e originale, capace di esplorare i lati più intimi dell'animo umano con delicatezza e maestria. Un'opera che invita alla riflessione e che lascia un segno indelebile nella memoria del lettore.